Le vacanze sono finite e da questa sera Barcellona sarà al lavoro per preparare la prossima stagione di RECA2. Alcuni passaggi sono già chiari, ma serve primo un tassello per dare il via libera all'ufficializzazione dei primi nomi dell'organico tecnico per il prossimo anno. Stasera Antonello Riva sarà nella città del Longano per firmare il contratto che lo legherà come general manager ai giallorossi. L'accordo, dopo essere tramontate le piste che portavano a Gianmaria Vacirca e a Marco a Tripaldi, è stato sostanzialmente fatto dal presidente Macolato Bonina, ma si attende l'arrivo di Nembo Kid per gli ultimi dettagli e per la presentazione ufficiale che si svolgerà con ogni probabilità domani. Riva attualmente si trova in Calabria per impegni personali. Non so ancora a che ora arriverò, perché ho un impegno in Calabria e poi non so adesso a che ora arrivo, è quello il problema. Posso trovare oggi in serata per definire le cose. La firma del contratto arriverà alla riconferma ufficiale per Giovanni Perdichizzi, che anche la prossima stagione guiderà la squadra. Poi si comincia col mercato. I punti fermi per ripartire sono Marco Giuri ed il capitano Ryan Bucci, gli unici due ancora legati da contratto con Barcellona e che la società non vuol far scappare. Per Bucci, dopo il periodo difficile vissuto nella fase finale del campionato scorso, causa sovraffollamento di americani nel pacchetto piccoli, la prossima sarà ancora una stagione da protagonista, visto che appare plausibile che i giallorossi possano investire i due passaporti a disposizione su un playmaker ed un'ala piccola stranieri, lasciando Bucci a dividersi il minutaggio con una guardia italiana. In uscita invece Emanuele Mocavero. Per quanto riguarda la campagna acquisti, corre già il nome di Marco Portannese, che ha appena rescisso con l'Orlandina e che, se non arriverà una chiamata dalla Serie A, para attento al forte interessamento di Barcellona.